moderno e aggressivo pk8 il nuovo pk è di casa dr adatto alla mobilità sui fondi difficili grazie alla robusta struttura 2.000 di cilindrata a 136 cavalli e alla trazione 4x4 uno stile moderno ed equilibrato tra le caratteristiche che lo contraddistinguono il robot sul cassone e le pedane laterali che facilitano la salita all'interno dell'abitacolo i suoi interni si presentano con una plancia squadrata con scossa digitale e display dei cipollici inclinato direi ai nostri showroom per scoprire tutte le colorazioni disponibili ti aspettiamo a sudara guastalla e mantova